Ed eccoci a Otasco, campo base della nostra, che potrebbe essere un'impresa. Davide Paoletto, ciao Paoletto saluta. Davide Paoletto, ciao Paoletto. Eccoci qui Paolo finalmente, sono gli ultimi metri per il tetto delle Corse, la cima del Monte Cinto, 2710 metri, 1400 metri di dislivello dal versante nord, il più alpinistico di Otasco, uno dei dubbi alpinistici rimasti insieme alla macchina fotografica di Giorgio Mallory è stato sciolto. Paoletto può salire in cima al Monte Cinto. Dai Paolo, dai, bravo Paolo. Dai Paolo. Dai Paolo. Dai Paolo. Ecco qua. Solo per noi, le Monte Cinto. Dai. Dai, ce l'abbiamo fatta, dai. Mamma mia, che massiccio di roccia, inespugnabile, con passaggi di primo e secondo grado. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Paolo. Paolo. E' il 27 giugno 2011, ore 13 e 58, per la regola delle 14. Eccoci qui. E' il panorama è mozzafiato, martirreno, mar mediterraneo, la paglia orva. E' tutta la dorsale cozza del grerellonè, la va. E' il panorama è un'escrizione. 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 Grazie a tutti.